Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi.C' è posta per te, Gerry Scotti, ospiti di Maria De Filippi, non riesce a trattenere le lacrime Le sue parole.Gerry Scotti è un noto presentatore televisivo, oltre che ad essere un famoso conduttore radiofonico Nato e cresciuto in provincia di Pavia, inizia il suo percorso nel mondo dello spettacolo sin dagli anni Ottanta, lavorando come conduttore per i programmi Ricomincio da 3 e Premiatissima Si afferma pian piano nel piccolo schermo e nel corso degli anni successivi diventa uno dei volti più noti della televisione italiana Una vera e propria colonna portante. Lo ricordiamo, infatti, al timone di trasmissioni di grandissimo successo come reazione a catena e chi vuole essere milionario Gerry Scotti è molto amato dal pubblico a casa, sia dai grandi che dai più piccoli. Ha conquistato il cuore dei telespettatori proprio grazie alla sua simpatia, alla sua ironia e alla sua capacità di coinvolgimento Ha un legame molto stretto con Maria De Filippi con la quale lavora da diversi anni Ci eravamo lasciati col dire che Gerry Scotti e Maria De Filippi hanno un legame davvero molto solito Un lunga amicizia che si rinsalda anno dopo anno. I due hanno lavorato insieme in diverse occasioni, spesso collaborando per programmi di grande successo come il celebre Tussiche Vales Il conduttore è stato diverse volte ospite della trasmissione C'è posta per te, ha partecipato, infatti, proprio alla puntata conclusiva di questa edizione che ha visto Maria De Filippi tornare in prima serata dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo Gerry Scotti era visibilmente provato e ha voluto raccontare un episodio del passato che ha accomunato anche la conduttrice Il noto presentatore ha fatto un salto indietro nel tempo, quando è venuta a mancare sua mamma Allora era già un volto noto del mondo dello spettacolo.Ha rammendato un episodio davvero molto triste, quando è scomparsa la donna, proprio nella camera mortuaria, molte persone si sono soffermate per chiedere un autografo Un qualcosa che l'ho fatto molto innervosire, ma il tempo stesso è stata anche uno spunto di riflessione Scotti si è fermato un attimo e si è chiesto che cosa avrebbe voluto la madre, ragion per cui ha continuato anche in quell'occasione così triste a firmare autografi a tutti coloro i quali glielo chiedevano Scena molto triste che ricorda proprio quello che è accaduto alla De Filippi Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video Grazie a tutti